Se ne vedono di tutti i colori in tribuna e il tifo arriva pure da oltreoceano. Anche joint ventures improponibili con tutta la buona volontà. Le scelte di Trappattoni fanno intuire che la partita si deciderà a centrocampo, dove l'allenatore bianconero mette insieme Reuter, Marocchi, Galia, De Agostini e naturalmente Baggio, non apparso determinante. Dietro sulle prime la Juventus sembra disposta per la zona. Il pasticcio difensivo sul gol numero 17 di Van Basten, dopo soli tre minuti, indurrà i bianconeri a premere maggiormente sull'acceleratore in fase propulsiva. Capello ha lasciato in panchina Donadoni, uno dei più in forma, dando fiducia a Ivani, che certamente non ha deluso e che è stato il promotore di molte giocate offensive. Forse sotto lo standard abituale Albertini, mentre Rijkaard si è confermato uomo di quantità e qualità. Van Basten ha fatto anche il terzino, partendo quasi sempre da lontano. Dalle parti di Maldini qualche perplessità. Buon pressing della Juve, mentre c'è stata l'amnesia rossonera in occasione del gran gol di Casiraghi, ispirato da un Galia che ha dimostrato combattività nella dura lotta in mezzo al campo e buona visione del gioco in occasione del pareggio bianconero. La Juventus è Gagliarda, ma è la squadra del vorrei ma non posso. Il Milan la squadra del potrei ma non riesco. Infatti i rossoneri sbagliano parecchio in fase conclusiva, anche se Van Basten ha delle ottime giocate. Certo, quando il Milan nella ripresa ha colpito il palo con Massaro, i rossoneri hanno gridato alla sfortuna. Ma allorché l'attaccante milanista non ha finalizzato al meglio l'occasione offerta agli da Gullit, le recriminazioni si sono attenuate. Il Milan ha premuto sempre e nella ripresa si è giocato nella metà campo bianconera. Qualche sortita della Juve ha creato preoccupazione, ma la partita era ormai segnata. Schillaci, che la palla l'aveva vista poco, ha lasciato il posto a Di Canio, che è stato atterrato fuori area, ma in definitiva è stato il Milan a creare ancora due o tre situazioni pericolose con Gullit, che non ha centrato la porta e comunque ha trovato tacconi sulla propria...